Non ho voluto creare un saggio, quindi tutte le esibizioni della scuola pregono già lo faremo l'8 settembre. Ho voluto creare una giornata per stare insieme, divertirci, qualcuno si scambia qualche piacchiera. Di dritto conosce le persone di moduli, ora questo non mi interessa e si fa amicizia. Sicuramente l'anno prossimo la cosa che faremo, perché ci sarà una seconda edizione del Ganga Raffi, abbiamo già definito con Nando, pensiamo di rifarlo di nuovo qui, perché penso che a livello di cibo, io personalmente non ho mangiato tantissimo perché non mangio tanto, penso che voi, da quello che ho sentito, abbiate mangiato bene e quindi la prossima edizione la faremo sicuramente intorno a gennaio 2013. e quindi prima vedremo, vedremo. Ringrazio tutto lo staff di con voi live, sempre disponibili e grazie a tutti. Il DJ, grande musica, grande presenza, ha stato intrattenuto. I ballerini, i ballerini, una cosa fondamentale, sono stati bravissimi, hanno parlato dove si scivola, dove c'è poco spazio. Grazie a tutti davvero, grazie. E' una cosa, stasera in alto la bandiera italiana. Noi a scuola l'abbiamo portata già in alto la bandiera italiana, oggi vediamo di riportarla di nuovo. Prego un po', penso che mi potrà, grazie a tutti. Bravo, bravo Gianni, bravo Valentina. Entrani i maestri fantastici. E allora i maestri lì al centro, vicino al tavolo, perché iniziamo. E qui veramente voglio l'applauso di tutti su queste note di vittori. E' una scuola l'applauso di tutti su queste note di vittori. ci scappano, ci scappano, ci scappano! arriva, arriva la pausa, benvenuti, si affunghi! I maestri ce l'anno e le ventine, tutta la scuola! Enzo i Fogar, due di distritto grandi! Delorsi con le foto, via!